Ciao, io oggi rappresento Albascià che è una bottega storica del comune di Milano, abbiamo solo 113 anni e siamo presenti nei settori dell'articolo i perfumatori e della pelletteria. La nostra storia parla di tradizione, parla di cultura e parla di lavoro fatto dalle mani dell'uomo. Siamo in via Torino al 61 e se volete venirci a trovare e respirare un po' di quella che era l'aria di Milano, diciamo oltre 100 anni fa, sarete benvenuti.